Il percorso che ti propongo inizia dal porto, che è l'anima e il cuore della città di Brindisi, da cui si srotolano lungo le strade gli scorci del centro storico, che dipanano chiese, castelli e monumenti della Brindisium romana. Come segnalatrice del porto c'è la maestosa colonna romana, che ormai è orfana della gemella e indicava, assieme alla gemella, la fine della via Appia, tre d'union tra Roma e Brindisi. Il forte amare, il castello aragonese, che si differenzia dal castello svevo, detto di terra, il centro storico di Brindisi permette la visita del Duomo e della chiesa di Sansepolcro, con i resti ancora visibili di una domus romana. I resti della città antica, rievocati a partire dalla pavimentazione durante la costruzione del nuovo Teatro Verdi, si possono chiaramente visitare nell'area archeologica di San Pietro degli Schiavoni. Per soddisfare poi la voglia di cultura e conoscenza enogastronomica, a circa un chilometro di distanza dalla stazione, nei pressi del porto, potete scegliere tra l'antica osteria La Sciabbica, dove prevalgono il pesce povero e i prodotti dell'entroterra Brindisino, e il ristorante Pantagruele, che in menù al pescato aggiunge i piatti di terra.